Termina ancora prima di ricominciare il campionato del Ginosa. La società del presidente Ribecco ha annunciato la decisione, seppur sofferta, di ritirarsi a causa del Covid-19 che con estrema virulenza si è abbattuto nello spogliatoio biancazzurro. Troppo elevato il numero dei positivi nel gruppo squadra, troppo elevato il numero di gare eventualmente da recuperare. Il Ginosa saluta auspicando di ripartire il prossimo anno, non prima però di aver vinto la battaglia contro il virus. Il Girone B di eccellenza muterà la sua conformazione. Per ogni giornata saranno due le formazioni che riposeranno, vale a dire quelle che da calendario avrebbero dovuto affrontare il Ginosa e il Manduria. A Grottaglie, Uggento e Otranto inoltre verranno tolti tre punti dall'attuale classifica poiché prima della sospensione avevano vinto contro i Ginosini. Tutto è mutato invece per il Sava che all'esordio era stato sconfitto dall'undici di Toni Pizzulli.